Hai 5 secondi per rispondere a questa domanda. Immagina di dover chiedere in prestito 100 euro. Quale sarebbe la somma più bassa da restituire? 105 euro o 100 euro più il 3%? Questa è una delle domande con cui nel 2014 Anna Maria Lusardi, una delle massime esperte di educazione finanziaria al mondo, ha misurato il livello di alfabetizzazione finanziaria in 144 nazioni, tra cui l'Italia. I risultati dell'indagine? Nelle prime tre posizioni Norvegia, Danimarca e Svezia. Il Regno Unito è sesto, la Germania ottava, gli Stati Uniti tredicesimi. Più giù, in cinquantottesima posizione, il Togo. E l'Italia? Sessantatreesima. Aspetta però. In un'indagine che voleva misurare la nostra alfabetizzazione finanziaria, metà delle domande erano semplici operazioni matematiche. Quindi, se non sappiamo calcolare a mente semplici percentuali, siamo considerati analfabeti finanziari. E allora oggi vi passiamo le percentuali. Noi le faremmo due domande... Vincolate. ...di matematica. Oh, Gesù! Come se la cavo con le percentuali? Malissimo. Mi mettete in di filo? Matematica. Come te la cavi con la mano? L'un per cento di trecento? L'un per cento di trecento è... ...30 per cento. Trecento? Tre. Eh, è tre. È tre. Come ha fatto? Faccio spiegartelo, lo so, ma non lo so spiegare. L'un per cento è, in realtà, una frazione camuffata. Per calcolare l'un per cento di un numero, basta dividerlo per cento. Eh, tolgo due z. Bravo. Fa, 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 c'è. Il dieci per cento di trecento? Non lo so spiegare. Non lo so spiegare. No, non lo so spiegare. Trento. Trenta, wow. Come ha fatto a calcolarlo? Non lo saprei. Anche il dieci per cento è una frazione camuffata. Per calcolare il dieci per cento di un numero, basta dividerlo per dieci. Togli lo gero, togli lo gero e diventa il 30. Pensa a tutte. E faccio una più difficile. Il quaranta per cento di trecento, senza. Il quaranta per cento di trecento? Sei pazzo. Un coloramento. Non vale che lo fai con la calcolatrice. Il dieci per cento è trenta. Quindi il quaranta per cento... No, vanno. Da cento e trentacinque, cento e trenta. Brava, vale. Da quella parte. Per calcolare il quaranta per cento di un numero, basta fare quattro volte il dieci per cento. È cento... Grande. Grande. Il novantanove per cento di trecento. Duecento e novantanove? Duecento e novantanove quasi, perché dici quasi trecento. Eh, quindi toglierei tre euro di prima. Se avevi un trecento, devi togliere i tre euro di prima. Quindi? Quindi sono duecento e novanta sette. Giusto? Giusto? Yeah! Hai ragione, è uno di prima, perché vuoi fare un per cento. Ok. La matematica è bella. Soprattutto quando iniziamo a unire i puntini. Anche se questa non è certo la parte più affascinante. Sia chiaro. Non è sufficiente saper fare le percentuali per conoscere l'economia. Ma se non sappiamo calcolarle, non possiamo utilizzare concetti come sconto, interesse, euribor, rendimento, deficit, tasso di inflazione, IVA, 13, IRP, IRS, IRA. Con un meno 2,46%. Tazzo zero, TAEG 2,65. Con questo la usi solo il 2%. Non muori giovane diventi vecchio. Eh sì, di solito funziona così, sì. Grazie a tutti.